Ah sì, cioè tu ti assicuro, da Bari, e ci ho giocato, hai la metà del ping che ho io, il che non lo riesco a capire, perché secondo me da Francoforte stiamo uguali. No, no, Francoforte è più vicino all'Italia, eh. Eh vabbè, però da Bari. Però in generale non è che dici da Milano. Da Milano è sicuramente più vicino alla Germania, però sono mille cazzi chilometri. Eh che vuol dire? Che c'è un'Italia di serie A e di serie B? Vuol dire che dal po' in giù l'Italia non c'è più? Ma è la distanza, Titti, è la distanza. Eh, mo' dici che quando c'era lui, eh sì sì, le solite cose che dici ogni giorno. Cioè, quale veicolo normale esiste? Mercedes, e allora Mercedes. C'è uno dentro casa tua, Marzo? No, è parecchio, più di uno. Armator pompa, c'è stato. Sono morto. Non sono morto, sono vivo. Non c'è il pompa, è piccolo altro. Oddio, Gabi. Eh, non lo fa il salio. Morto? No, ce n'è un altro dietro. Ma che porco Dio è? Allora, tu mi stai dicendo che questo sono in tre nel box sparato in mezzo alla scala. Vabbè, se vuoi giocare, gioca, ne sento tanto no. Ma ogni stato non ti parte tipo una tendinite pazzesca? Male al braccio? Morto, vai, vine, PCC. Avere più malazza e più vita. Io vi posso lasciare un paio di colpi qua. Diti, ma dove cazzo sei andata? Io ho due stress, ragazzi. Eh, sono qua accanto. Eh, ma io trovo le pistole dalle casse come se non avessi già abbastanza. Ma regà. Ah, è perché c'aveva del cespuglio, tipo? Senti. Mi stai amando, bro. Ragazzi, vi prego, ditemi che tipo ci sono delle cose. E se c'era cosa c'era cosa c'era cosa c'era cosa c'era cosa c'era. Perché che si chiamava Titti che mi viene un nome famigliore? Il cartone animato più famoso dell'uomo. No, la mamma di Nezac. Ah, ok. A lui non gli viene in mente Titti e Silvestri, mi viene la mamma di Nezac. Eh, ma io lo ricordo. No, scusa, scusa. C'è una persona più legata all'ambiente, la mamma di Nezac. Capito, cazzo? Ma non è che come ti chiami Vluto? Chi è? No, il cugino di Silverio. Che cazzo vuol dire? C'è... No, ma parco Dio. Assurdamente no, cioè le lanciagranate. L'ho finito il rampio. No, non è fatto più. Papà. Morto uno, Ronnie. Sto dando uno. Oh, ma che pazzo. Madò! Sto dando un altro. Morto. Morti due. Ok, ok. Ti ha dato il due. Sei come por... Dio. Si fa, Marzo. Ma l'ha cecchiaato. Allora è morto. Ma l'ha cecchiaato. C'è uno sopra la... Morto. No, ha tirato la zona, Dio. Non ha capito, 120. Dai, no? Beh, c'è la zona. Ragazzi, non venite da me. Non avete cure. Morto di nuovo sopra. Ero già pronto. Ah, eh, ragazzi, Batman. Maggio. Ma che... Qua fa dare di merda, fa dare lo scopo, guarda là. No, no, le ho tagliato i capelli. Allora, l'avevo qui lato. Morto uno. Affo. Facile. Ma... So che poi, magari, per tanti di voi in chat, questa è una cosa strana che starò per dire. Perché magari voi siete dell'età... Però per me, da 96, sono un po' vecchiotto, quindi... Era il TikTok d'esta tizia che fa... Quando torna da calcetto e dice che ha perso e vuole sfondare tutto. E lei che fa sfonda me, sfonda me. E c'era hashtag 08. I commenti erano tutto... Grave. Erano tutto... Amo. Io ieri con lui. Non fa fastidio che i 08 scopano, eh? No, però cazzarola, capito? Cioè, non... Nel senso... Così esplicito, posso dimmi, cringe. Ma il punto non è scopare o no, perché comunque è giusto che il mondo è andato avanti, si vivessero la loro vita come meglio credono. È il vanto della scopata che mi cringe da... Cioè, proprio da matti. Non ce la faccio. Ecco. Quando Gio ti ha detto... Diego ha appena annunciato la data al forum di attacco, eh? Peschia, spedisata. Porco Dio, porco Dio! Che figlio di puttana! Sì? No, no, ragazzo. Muta. Ah, no, forno. 35, blu. Non so comunque chi è, ma... Che c... No, no. Vedi, vedi, vedi. Non sopevo. Oh, volano. Volavo, volavo, volavo. Vedi, vedi, vedi. Ah, in volo? Provavo usare un po' di auto-aim. Mannaccia, Cristo, non pio un corpo, non pio un corpo! 21 blu! Il giro è sopra, vedi, 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 vedi. Eh, niente. C'è citto. Cazzo, raga. Ma che cazzo succedeva. Blockato uno. Cazzo? Ha volato. Uno qua, stavola. Blockati due? No, raga, è pieno. Non pregno. Vale. Dai, 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 dai. Allora, se devi giocare così, porco Dio, non giocare! C'è il big, a marzano, è il big. Marzano, è il big. Ah, però ragazzi. Andamela, andamela, e voglio, o me la vita, damela. Eh, veramente. Allora, lo sto tirando. Dio, sono il big. Dio, sono il big. è morto uno ma tu stai faiitando no che sta faiitando? 50 white favo no? ah era l'ultimo ma guarda guarda il laggi il laggi il laggi e poi vanno a scrivi i commenti ragazzi c'era una persona è esatto ragazzi abbiamo assistito la quinta o la sesta volta stasera dove venuti tra mezza pinnacoli da solo e ci esponati questa che queste arrivano ma sento ristare è tranquillo che se ti stai chiedendo dove arriva non basta che guardi dove sto io 105 che assurdo sono tutti Sono tutti dentro Fatemi joinare No Adam non è che su starse Non è la mia Non sono i miei comandi Brozio Knockato uno Cazzo raga Eh Marzo Se vuoi mi puoi restare dietro Ma vuolendomi Non farlo non farlo non farlo Mancano tre persone Vieni Marzo Immaginiamo prima Manu poi Marzone oppure Beh non so Marzo dai dai Marzo Fammi aspettare Marzo Vai tu e il muro Marzo è il tuo Come il mio? C'è anche il drappo dai Marzo Sì 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 Mamma mia Marzo Polido Total fight 10 Nice Sì Sì Però ho preso un danno perché Da quel muro che non avevo idea fosse Non sarei accorto Eh so Sì 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 Sì